Stasera tutti da noi a vedere la partita! E chi cucina la sottoscritta? Cosa cucinerà una fantastica pizza? Mattarello e viva le nonne! Voilà! Ehi ragazzi! Giro di qua! Giro di qua! Oh! Forse ho esagerato un po' troppo ma ci ho rimediato qui! Ta-da! Pizza già pronta ragazzi! Solamente da infornare! Ma cosa mi mancherà? Voilà! La mia sciapettina della mia fantastica squadra! Pizza in forno! E tutti in casa scrivano a vedere la partita! Eeeh! Viva la pizza! Olè! Olè! Ciao ragazzi!